non guardare la camera allora ricerca grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e Group in Action siamo riusciti ad avere la possibilità di svolgere questo progetto con questo scambio unilaterale con l'Ungheria in pratica ci sono 14 ragazzi ungheresi in questo momento in Italia da noi con 14 ragazzi nostri tutto il progetto si basa sull'organizzazione di un concerto dalla A alla Z in effetti perché si tratta di organizzare il band proprio quindi abbiamo formato il band misto, il laboratorio musicale del band composto di ragazzi ungheresi e italiani che si tratta di un'esplorio che si tratta di un'esplorio a sway noi è stato come i Oltrasie per il primo scambio che organizziamo io all'inizio ero ovviamente un po' titubante sui risultati però dopo i primi giorni siamo riusciti ad integrarci molto bene stiamo tutti molto bene abbiamo fatto tanta ricizia ci siamo trovati bene io personalmente non ho mai fatto cosa del genere credo che cercheremo di organizzarne altre ovviamente i finanziamenti è cambiato una volta ogni finanziamenti permettendo esatto, finanziamenti permettendo cercheremo di fare il possibile per organizzare altre cose del genere un'esplorio come hai detto? come hai detto? cosa stai dicendo ragazzi? qui tutto il gruppo musicisti e organizzatori con arcangelo guidati da arcangelo e arrivate a piedi anche così non lo capisco mi stanno riprendendo su arrivati in villa e poi dovete portarvi tutto ciò che vi serve per suonare per cambiarvi tutto perché dopo qui non torneremo a piedi e che tanto gli strumenti vi portiamo a piedi cosa stai dicendo? e noi che cosa faremo là? e noi che cosa faremo là? cosa faremo là? guarderete noi che facciamo i suoni che organizziamo il concerto montiamo la roba ok